no ma dai ma che arriva ragazzi frank renzo vieni cioè è una macchina dai è morta ma vaffan bagnatteva vediamo che questo crepa però ci aiutate attacchiamo il cavallo erano tutte belle ragazzine e si per forza chi c'è un corompero grazie prego la ringrazio è detta bene in moto ma basta che la raddrizzi ci dovrebbe passare per questo momento no perché non abbiamo il prenderlo perché bisogna architecci un'architetta due quattro figa foto stai filmando zampi la puttana la spiaggina questa qua era la meari di una volta che non era ancora nata cazzo no me la ricordo la mia aria è quella eh è il pianale ora è plastica buttala nella plastica oh basta qua sarà giusto oh andiamo lì avanti basta qua out no basta andiamo qua avanti no sull'ultimo pezzo qua spampi qua avanti che non è tanto qua basta lascia stare lascia stare basta e prova a tirare fuori quello lì ma dopo andiamo di là perché sennò non finiamo tanto facciamo